lunedì 8 febbraio quando mio padre ha saputo dell'accaduto ha contattato per chiedere spiegazioni si è presentato a casa nostra insieme a tutti gli altri e tutti loro hanno raccontato delle bugie a mio padre in particolare hanno detto che quella sera avevo bevuto troppo cosa vera e che non era successo nulla e che quella sera c'erano anche delle ragazze di questa conversazione sono a conoscenza perché me l'ha riferita mio padre successivamente infatti in quel momento io non mi trovavo a casa perché mi ero recata prima la stazione dei carabinieri per sporgere denuncia e poi in ospedale dove mi sono trattenuta per una notte nei giorni successivi la vittima contatta uno dei ragazzi tramite i social e lui risponde così ma che stai dicendo eri ubriaca come fai a dire quello che è accaduto i lividi alle braccia te li ho fatti io perché tu eri ubriaca da fare schifo e non ti reggevi nemmeno in piedi e comunque sappi che ci sono rimasto malissimo per quello che hai fatto se non eri sicura del fatto che era successo non c'era bisogno di andare in caserma a fare una denuncia quando non serviva che così ora metti problemi grossi a noi io comunque spero che la denuncia che avevi fatto è stata annullata perché così metti gravi problemi a noi quando sono stato dietro di te tutta la sera per non farti sbattere a destra e a sinistra non gliel'hai detto ai carabinieri o quando ti tenevo la testa per vomitare allora edoardo adesso ci aiuti un po a capire no sempre nei giorni successivi la vittima scrive anche a un altro dei ragazzi coinvolti nella storia che la rassicura nel frattempo scarica sugli altri ogni responsabilità ascoltiamo questa parte ho tanta paura non so che cosa sono capaci di fare capisci sto impazzendo mi sveglio e penso a sta cosa dormo con sta cosa in testa sono indietro con la scuola ho paura anche di uscire ho paura che mi ammazzano non faranno nulla c'è la giustizia tranquilla tu dici non hai paura tu assolutamente no stai tranquilla che io gli dirò quello che ti hanno fatto anzi già i carabinieri lo sanno quindi se tu gli direi quello che ti hanno fatto andranno al fresco ok stai tranquilla scusami se chiamo te ma non so che cavolo fare tranquilla io per ora sono più incasinato di te lo capisco capisco cosa significa anche per te andare a mettere un avvocato e tante altre cose con la tua famiglia e mi dispiace da morire tranquilla che la pagheranno per quello che ti hanno fatto ste carogne spero che vada tutto bene tu fatti forza psicologicamente devi andare avanti anche se sembra difficile devi essere forte va bene non so che dirti veramente mi dispiace che ci sei di mezzo tu come se già non bastasse dimmi dimmi massimo no io immagino perché dalla ricostruzione che è emersa le denunce praticamente la ragazza ha una relazione con uno di questi qua sarebbe questo consenziente ma questo chiama gli altri a un certo punto quindi la tradisce la tradisce doppiamente chiama gli altri si consuma questo stupro di gruppo questa è la e questo spiegherebbe anche forse la remitenza iniziale del padre che ha paura che si sappia che la ragazza ha una relazione terrificata però c'è una frase che ci deve far pensare quelli mi ammazzano io ho paura c'è la paura in questa storia c'è la paura in un contesto di semi criminalità secondo me le conversazioni dei ragazzi sono state intercettate nei giorni successivi due di loro sono preoccupati e parlano delle possibili conseguenze partendo da degli oggetti sequestrati dai carabinieri sentite ora con le lenzuola vedono tutte le cose l'autopsia fanno certo in galera siamo ma perché a quelli che ammazzano i cristiani non ci fanno nulla il giorno dopo li lasciano io non lo so e noi per la prima cosa che stiamo facendo prima cosa perché non siamo mai stati iscritti dagli sbirri ma quanto ci possono dare in che senso in galera compa speriamo che ci mettono tutti e due insieme la ci portano vero o vedi che là dentro appena sanno che a noi altri ci hanno arrestato per questo ci ammazzano allegnate compa perché queste cose non si devono fare cose molto brutte mi dispiace per noi ma quelli che sono in galera appena sanno che tu hai fatto sta cosa perché già lo vengono a sapere subito ti ammazzano curioso che dica se tu hai fatto questa cosa non se tu sei sospettato di averla fatto una simil confessione allora per fortuna non c'è stata nessuna autopsia no è ancora viva la ragazza edoardo si vabbè confondo l'autopsia mamma mia che livello ragazzi con gli esami allora edoardo ecco questa intercettazione no che cosa si dicono questi questi ragazzi ad un certo punto ho visto che hanno scherzato pure no andiamo in galera ma se ci mettono tutti e due insieme ma se sanno che abbiamo fatto questa cosa per cui non la mettono in dubbio quello di aver fatto questa violenza ma ci scherzano assolutamente eh sì e tra l'altro cercano anche questo è stato un elemento determinante insomma le intercettazioni ambientali dei carabinieri che avevano messo cimici in due delle macchine dei ragazzi e poi li hanno intercettati eh in in caserma eh stanno cercando una versione comune tra l'altro dicono una cosa gravissima dicono abbiamo sbagliato a scegliere lei te l'avevo detto che lei non andava bene come preda questo ovviamente quello che è sottointeso e insomma queste intercettazioni sono decisive poi per addossare a loro le colpe lo ricordiamo ci sono cinque indagati uno dei ragazzi è minorenne due sono attualmente in carcere a Trapani altri due sono ai domiciliari tra l'altro sono in carcere quindi misura più restrittiva perché scrive il GIP c'è il pericolo di fuga perché a un certo momento dicono io in carcere non ci vado io me ne vado insomma lei tra l'altro e Massimo prima lo diceva ha centrato proprio il punto tra le altre cose è stata tradita anche da questo ragazzo che a cui tra l'altro diciamo per il quale provava un certo eh affetto insomma no che è il ragazzo con cui all'inizio si era partata in camera quello che poi ha chiamato esatto che ha chiamato poi gli altri ed è lui stesso che poi dice ma guarda ci sono finito in mezzo e lei addirittura ma entriamo nella testa di una povera diciottenne quindi è molto giovane dice mi dispiace addirittura che tu ci sia finito in mezzo ma di fatto questi hanno scelto una preda in maniera molto molto precisa e lui l'ha tirata in trappola in maniera deliberata ragazzi questo è un piano criminale preciso eseguito con lucidità dove tutti hanno un ruolo ben preciso insomma per cui questa povera ragazza ha subito anche l'onta di essere manipolata magari credendo pure di avere un coinvolgimento una relazione vera con questo ragazzo che invece in realtà l'ha solo tirata in trappola davvero terribile e mi sentirei di dire da donna e aveva tutti i diritti di avere un rapporto con un ragazzo che ci mancherebbe no perché qualcuno ci mancherebbe adesso legge no interpreta diversamente la serata non è non è un caso che sia lui a attirarla lì perché lei sapeva che lei ci sarebbe andata ovviamente contava questo allora questi ragazzi sono stati arrestati alcuni sì questi ragazzi due sono stati arrestati sono in carcere a trapani altri due sono i domiciliari e poi c'è il minorenne che se la vedrà col tribunale dei minorenni l'accusa è molto pesante perché violenza sessuale in concorso aggravata anche dalla minore difesa quindi lei era aveva bevuto insomma ma tra l'altro loro raccontano una versione leonora assolutamente assurda ritenuta assurda dei carabinieri dice lei ha cominciato a vomitare di qua e di là dava calci e pugni questo per giustificare anche qualche lividio che avevano addosso mentre in realtà i lividi lei li aveva perché è stata trattenuta lei è stata rifertata al pronto soccorso quindi quei lividi anche sulla testa aveva praticamente un bozzo simile a una piccola noce perché cercando di dimenarsi e di sfuggire a questa violenza ha battuto la testa contro il muro insomma la violenza sembra ci sia assolutamente tutta adesso vedremo che cosa decideranno oggi tra l'altro i giudici perché oggi è la giornata dell'interrogatorio di garanzia e se deciderà di parlare decideranno di parlare sentiremo anche la versione ulteriore di questi ragazzi è difficile che parli non questo tipo di condizioni di solito si abbalgono la facoltà di non rispondere insomma la situazione è già abbastanza seria insomma anche a me vediamo allora come si sono difesi perché hanno subito negato le accuse hanno raccontato una versione della serata totalmente diversa credetemi questo è un copione che si ripete ormai eh sentite a questo punto siamo rimasti in casa noi altri in compagnia di la quale era aggressiva perché ubriaca nei nostri confronti tant'è vero che la stessa ha iniziato a sferrare calci e pugni a tutti i presenti per farla riprendere tutti tranne che era rimasto inizialmente al pian terreno per sistemare casa abbiamo portato la all'interno di una delle camere da letto posta al primo piano è precisamente quella in cui vi è un divano letto ci ha raggiunto poco dopo per vedere come stesse abbiamo sdraiato la nel letto ma lei ha iniziato ad agitarsi alzando le mani e mentre i ragazzi scendevano si è alzata e mi ha spinto facendomi cadere dalle scale e provocandomi uno livido sull'anca lato sinistro poco dopo siamo riusciti a far entrare in macchina di che unitamente partiva per riaccompagnare a casa noi li abbiamo seguiti a bordo di un altro veicolo